Grazie Andri Allora io ringrazio Andrea strepitoso e spero che condividiate il mio pensiero anzi lo sono certo lei mi aveva detto che avrebbe fatto una presentazione d'effetto e spiegato cose veramente importanti soprattutto l'hai detto in maniera autentica che è quello che vogliamo fare qua dentro cioè trasferire la propria esperienza per aiutare altre persone a fare meglio il progetto che sta portando avanti il project Invictus è un bellissimo progetto secondo me che l'ho analizzato costituito da un'anima di cui tu ovviamente sei artefice creatore ed è molto evidente e soprattutto il fatto che vi invito a osservare che ci sono tante persone che stanno ruotando attorno a questo progetto perché tu lavori con decine e decine di persone sì una settantina contribuiscono moltissimo questo è un segnale se ci sono decine di persone che ti seguono vuol dire che stai facendo molto bene ok? quindi ancora congratulazioni per il project Invictus grazie mille un premio prima l'altro questo è un premio normale grazie mille 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 grazie mille